Legge per le cooperative sociali Legge per le cooperative sociali La consulta europea ha inoltre avviato il concorso 2012-2013 Diventiamo cittadini europei per gli studenti delle scuole superiori del Piemonte Per preparare l'iniziativa sono organizzate 17 conferenze nelle scuole e il corso di aggiornamento per gli insegnanti Svolto il 15 novembre a Palazzo Lascaris sul tema L'Europa al bivio tra Unione federale e disgregazione Monitoraggio mozioni e ordini del giorno E online il nuovo rapporto sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale nella nonna legislatura Sono 880 gli atti, ordini del giorno e mozioni presentati dai componenti dell'Assemblea regionale dall'inizio della nonna legislatura e poco più di un quarto quelli approvati in aula Il nono monitoraggio trimestrale, aggiornato a fine settembre, è consultabile nella sezione del laboratorio giuridico sul sito internet del Consiglio regionale Concluso il percorso formativo per ragazzi in aula Creare un Consiglio regionale dei ragazzi? Con questa proposta di legge presentata dal Consiglio comunale dei ragazzi di Pino Torinese si è conclusa la fase preparatoria di ragazzi in aula 6 le proposte presentate dagli studenti passate al vaglio dalle commissioni L'evento conclusivo è previsto per il 7 dicembre nell'aula di Palazzo Lascaris Gli studenti simuleranno i lavori dell'Assemblea legislativa presentando e votando le loro proposte vestendo i panni di consiglieri Grazie a tutti